buongiorno e benvenuti in questo breve video vogliamo raccontarvi le potenzialità dell'interfaccia dei nostri software gestionali ERP per fare ciò vi mostriamo come impostare e personalizzare l'interfaccia dell'ambiente di lavoro 1c a vostro piacimento in questo modo potrete sfruttare i vantaggi che vi offrono i nostri prodotti ovvero semplicità customizzazione e controllo totale del business partiamo da una schermata bianca da personalizzare interamente questo passaggio in realtà è molto semplice tramite le impostazioni della pagina iniziale potrete infatti selezionare tutti i moduli che vi interessano tra quelli disponibili e potrete arricchire l'interfaccia del sistema naturalmente ogni utente potrà scegliere gli elementi che meglio lo potranno supportare nella gestione del lavoro quindi le modifiche fatte da un utente non saranno visibili a tutti gli altri utenti che possono entrare nel sistema stesso discorso riguarda i pannelli andando sempre su impostazioni e poi all'interno di impostazioni pannelli è possibile spostarli in base sia le caratteristiche dello schermo sia in base a ciò che l'utente vuole tenere sotto controllo anche per quanto riguarda i moduli nella parte alta dell'ambiente di lavoro è possibile intervenire con delle modifiche scegliendo di esplicitare solamente quelle sezioni di cui singolo utente dovrà occuparsi ovviamente in base alle mansioni di cui si occupa all'interno dell'azienda avendo inserito all'interno dell'interfaccia principale il pannello dei preferiti vogliamo mostrarvi come inserire all'interno di questo direttamente dei link per esempio all'interno del modulo acquisti potete selezionare la stellina che trovate a fianco della dicitura che vi interessa e questa verrà automaticamente inserita all'interno del pannello richiesto nell'interfaccia diciamo della home un ulteriore metodo per personalizzare e modificare l'interfaccia riguarda il singolo modulo quindi ad esempio all'interno del modulo vendite tramite gli ingranaggi che troviamo in alto possiamo modificare le singole voci eliminando ciò che per esempio non ci interessa quindi possiamo andare su dichiarazioni di intento ed eliminare la voce in modo tale che venga proprio cancellata dalla parte sinistra dello schermo per quanto riguarda invece le modifiche alle voci presenti nella parte destra dello schermo ci richiamo sull'ingranaggio nuovamente e abbiamo impostazione azioni che ci permette di anche qui eliminare ad aggiungere tutto ciò che riteniamo non essere di nostro interesse